Ciao ragazzi, siamo qui al locale Villa Reale dove si terrà la serata del 10 luglio Siamo arrivando Noi vi aspettiamo in tanti, nel frattempo vi facciamo vedere una panoramica del locale Vieni qua, vieni qua, vieni qua, ecco qua, ecco qua Tutto a bordo piscina, con trulli, tutto quanto Che dire, vi aspettiamo in tanti, un bacione da Gianni Begar e... Da me! Ciao!